Una qua, una qua, vai. Qua con noi venite. Vieni qui, vieni qua. E la signora lì. Mettiti un po' lì. E due uomini qui, va bene? O volete intercalarvi? Vabbè, lo deve dire. Quella è senza glutine, una senza glutine. O due. Eh? Se non le sta male, eh? O cosa viene altro? Se la devo mettere a tavola, noi lo mettiamo tutti. Cioè, mi fanno il menù personalizzato, però. Non è che lo posso mettere a tavola a parte. Vieni qua a capotavola. Quelli di qua. C'è la stessa? Sì. Oggi ti ho mandato un po' il messaggio. Non so se l'ho letto perché... No, 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 era proprio, siccome c'era la segreteria... Ah, no, non gli ascolto la segreteria. Sono i whatsapp scritti, leggono. Ah, ecco, no, era proprio per ricordarti la storia del... Ah, no, ma noi l'abbiamo detto, l'abbiamo. L'abbiamo detto. Sì, lo sanno, lo sanno. No, no, mettiti qua. Mettiti qua, mettiti anche su di qua. Mettiti qua. Mettiti qua. Mettiti qua. Scusami, se ne iscrivi. C'è quello sempre lì. No, no, sì.